Il modello Abruzzo per la sanità del futuro, il ruolo della Corte dei Conti tra gestione tecnica, controllo e responsabilità, è stato il tema centrale del convegno organizzato dall'assessore alla salute pari opportunità della regione Abruzzo, Nicoletta Averì, con la partecipazione delle quattro ASL abruzzesi. Un importante confronto dunque tra la sanità e la Corte dei Conti, deputata quest'ultima a controllare e a monitorare tutta l'attività dal punto di vista economico, ma soprattutto a valutare i livelli LEA, ovvero il raggiungimento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza che il servizio sanitario della nostra regione sta mettendo in atto l'assessore regionale Nicoletta Averì. Bisognerebbe trovare, diciamo così, il quid medium, no? Provo la sintesi tra due cose, i due aspetti. Sì, è vero, è importante perché, come voi sapete, nella nostra regione c'è una denatalità, per cui anche i fondi che ci vengono dati da parte del Ministero sono sempre fondi meno in confronto invece alle cure che noi dobbiamo portare sul territorio perché la nostra regione è una regione in cui c'è un numero elevato di anziani. Significa invece dare quella qualità appropriata, come ho sempre detto io, attraverso una rete definita sul territorio e quindi evitare quelle inappropriatezze che oggi di quei pazienti che si rivolgono presso i presidi ospedalieri invece trovare le cure adeguate su un'assistenza di prossimità presso le case di comunità, gli ospedali di comunità ma soprattutto invece investire anche, diciamo, sulla sanità complessa negli ospedali e quindi un riequilibrio di un sistema, un riequilibrio che va a valutare anche i dati con un modello unico portiamo avanti non solo risultati ma soprattutto direttive. E poi la riorganizzazione dell'emergenza urgenza e l'incidenza dei costi Covid mai rimborsati. Rattiveremo un unico numero che è il 116-117 che è il numero che darà le risposte per la cronicità quindi un sistema a largo raggio e quindi che è importante come metodo per ridurre quelle inappropriatezze che purtroppo ancora oggi sono presso i pronti soccorsi. I costi Covid sono costi che non sono stati rimborsati dal sistema nazionale della sanità per cui abbiamo messo a disposizione dei nostri fondi e noi li avevamo avevamo la possibilità di coprire questi costi, di non andare in disavanzo attraverso una gestione anche oculata. In videoconferenza l'intervento del Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha testualmente dichiarato non è stato facile gestire la sanità in questi anni l'Abruzzo l'ha fatto bene, l'ha saputo fare anche e soprattutto grazie alla sinergia che si è creata con gli organi di controllo. Non solo, l'Abruzzo è riuscito a far nascere anche delle nuove eccellenze nazionali come il centro specializzato sull'oculistica pescara e il centro di oftalmologia di Chieti.